Gli imperfetti, non sportivi Non è che possiamo essere tutti sportivi e perfetti come te e voi altri Esistiamo anche noi imperfetti Non sportivi e perfetti come te e voi altri Esistiamo anche noi imperfetti Non sportiviamo sereni e tranquilli Vi do due Big Mac L'abbiamo Siamo in una situazione un po' strana Perché per la prima volta dopo, non lo so, un anno? No, forse di più Perché tra gravidanza, lockdown Dopo due mesi stiamo uscendo senza bambini Bambini che poi la bambina è una e Sofia è alta quanto me Quindi ovviamente ormai la scambiate anche per me nelle foto Grazie a tutti Grazie a tutti